la domenica del buon pastore il tema è sempre un tema pasquale gesù è il buon pastore dal resto i riferimenti biblici all'antico testamento sono immediati e colui che doveva venire colui che conduce il greggio noi consacrati dovremmo essere l'immagine del pastore purtroppo non sempre riusciamo a renderla bene questa immagine poi possiamo dire che ogni cristiano e credente in qualche modo ha il compito di guidare l'altro penso ai padrini alle madrine penso al papà alle mamme penso anche ai giovani che diventano a sua volta in qualche modo pastori purtroppo ci sono molti falsi pastori cioè sono coloro che diciamo propongono messaggi appetibili a poco prezzo che però portano alla rovina e da questo lo dobbiamo guardarci guardarci dai falsi pastori cioè dai coloro dice gesù che approfittano della loro posizione del loro potere per sfruttare le pecore purtroppo esempi di questo tipo ne abbiamo tanti pastori che predicano l'umiltà che predicano la povertà e poi sono ricchissimi e magari non si vergognano di portare una croce di legno e poi sfoggiare con macchine di grande prestigio che diciamo io non mi intendo molto ma costano insomma chissà non lo so ecco ci sono situazioni in cui veramente l'incoerenza fa da padrona allora non si può essere pastori non si può essere profeti non si può essere testimoni del vangelo in questo modo con questa profonda incoerenza almeno dobbiamo impegnarci in questa coerenza come diceva don tonino bello ecco impara da questa icona biblica è un'icona alla quale devi devi rifarti riscoprire i volti usare tenerezza per gli agnelli appena nati condurre pian piano le pecore madri senza avere paura di essere accusati di parzialità se si parte dagli ultimi e dagli ultimi ed è più deboli che noi dobbiamo partire amando i poveri gli umiliati gli offesi persino i nostri nemici senza preoccuparci del potere della carriera degli onori sono cose effimere dice indegne di anime immortali come pastori di un greggio come pastori secondo il vangelo noi innanzitutto come consacrati e chiamati proprio a questo dobbiamo essere di esempio ma insieme con noi anche tutti coloro che credono in gesù e in qualche modo diventano guide per gli altri buona domenica